Adesso dobbiamo vedere come la regione intenderà dare le rotte fra Aeroitalia e Itta. Per adesso sono le due compagnie che stanno facendo un servizio su Alghero, Aeroitalia su Fiumicino e Itta su Linate. Non so se rimarrà tutto uguale o se una delle due riuscirà a superare l'altra. Funziona poco perché ci hanno comunque tolto dei voli, quindi su Milano avevamo più frequenze anche su Roma. In più penso che una continuità territoriale non debba rispondere solo su due aeroporti, Roma e Milano, ma su anche altri aeroporti, come potrebbe essere un Bologna, un Torino. È troppo a poca la capienza di passeggeri che può andare per l'Italia. Noi possiamo andare o a Roma o a Milano. Ma per il sindacato è meglio il modello di continuità territoriale proposto all'assessore regionale dei trasporti Antonio Moro o quello della compagnia spagnola Volotea? Io penso quella dell'assessore dei trasporti. Vorremmo capire questa fusione a cosa porta all'aeroporto di Alghero, quindi siamo un po' preoccupati. Potrebbe essere una buona mossa come potrebbe essere un'azione che l'aeroporto di Alghero subirebbe. Noi come UGL e trasporto aereo intanto facciamo un altro sciopero il 15 luglio, dopo quello del 30 giugno, perché non siamo d'accordo al contratto di solidarietà che hanno concordato con altre tre sigle, visto l'attivo che ha avuto l'azienda sia nel 2021 che nel 2022. Siamo contrari agli accordi dove stanno mettendo la percentuale di partitami in azienda al 95% e in più siamo in disaccordo con l'azienda perché non rispetto al contratto nazionale che c'è adesso.